Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un nuovo video, anzi era la continuazione, perché ho fatto la scorsa volta il primo video della prima parte, come ho detto farò le battaglie, la storia per ora non la faccio, quindi mi metto in pausa, però lo riprendono molto presto, quindi farò le battaglie adesso dei cavalieri d'oro con le armature d'oro, quindi ora mi sceglierò un bel personaggio. La mi scelgo, ora ve lo dico ok, e per questo video lasciate tutti i suoi like di mi piace come sempre, iscrivete al mio canale che è gabrygamer99, con questo e tutto quello che ho detto, buona visione di questo video, allora andiamo qua, allora scegliamo dai, mi piace, sono segno zodiacale, pesci, mi scelgo i pesci, facciamo questo, ok, e che la battaglia abbia inizio, ok vediamo contro, devo sfidare, sfidare vediamo, ah contro gemini con l'armatura divina, ok. Ah, come dove inizio mi ha colpito lui di sorpreso, vabbè, per però di... ok. Allora io penso di aver pallato abbastanza, ora faccio come Joseph TheGamer, quello che fa i giochi di Dragon Ball, mi starò zitto e mi concentrerò sulla battaglia, ok, quindi pallerò all'ultimamente, ok. Ah, proprio, come dove inizio, ma pensare non sia. Ah, è vero che ho poi, come un po, è vero che la battaglia che esco come si troppo, questa è vero, ma pensare che stiamo parata a un k party nato e av citizenship. Ah, come va, ma pensare che ci sono state, ok. Ah, come va, beh, veniamo con il progete, che quando fa i giochi di un problema. Ah, come va, è vero che pide, non è vero che, non è vero, potenza è vero, ma pensare che si può avere più oltimamente, ok. Buongiorno! Grazie! Kimi wa Nishidu Va bene! Ho finito con la nostra finale i colpi segreti di Fish Se non vi sia piaciuto questo video e ci vediamo al prossimo video con i cavalli dello zodia con Sadie Seiya, Soldier Soul e al prossimo video scusatemi e al prossimo video, ciao belli!